www.letteralmente.info Allora, cosa facciamo in questo San Faustino? Potremmo andare al ristorante a mangiare, cosa dite voi cari ascoltatori e ascoltatrici che ci state ascoltando in tutto il mondo? In questo bellissimo 15 febbraio 2020, oh che bello che bello, dalla voce di Maurizio Ligiei, dallo studio Zero Rete Ferrara, letteralmente radio, una radio con tante radio dentro e tanti studi. Allora, oggi facciamo che uno più uno fa due, dico bene? Sì, penso di sì. Ecco, però non ha quella certezza, eh? Dico bene? Eh sì, siamo qua in fase di riposino. Ah, di riposino? Eh, sono le 18, lo sa lei che ore sono? Sì, va bene, va bene qualsiasi orario. No, e sono le 18 e 41 minuti primi e 19 secondi e 23 decimi, eh? Eh, millesimi. Eh, perché io ho notato che lei sta dormendo, eh? Oggi è sabato, eh? 15 febbraio 2020. Mi sa che domani è il 16, eh? Eh, siamo in diretta. Eh certo, eh? Potremmo essere anche storti, eh? Però... Eh, siamo in diretta. No, no, non so mai niente o se mi chiamo in privato in diretta, no. Eh no, eh, non si sa. Comunque, l'ascoltano in tutto il mondo, va bene così? Eh sì, sì. I nostri interessi ti ascoltano dappertutto. Eh sì, il nostro salotto deve essere così. Il nostro salotto. Divulgato ovunque, vero? Ecco. Eh sì, eh, deve essere così. Bene, intanto... C'è qualche novità, notizie dall'estero? Beh, guardi, allora, novità è che volevo mettermi questa sera una t-shirt. Però pensavo di mettermi... Hai mangiato il risotto oggi? Sì, tutti e due i risotti. Bene, bene. Allora, pensavo invece di mettermi una camicia con dei bottoni alla Serafino. Sì, ma adesso vestirsi è leggero e ancora prestino forse, è ancora freddo. Sì, è freddo, eh? Sì, sì, lei ha i brividi, eh? Lo sento. Ho visto oggi uno che aveva solo una camicia con le maniche lunghe e non aveva niente sotto. Non era rosa-blu, eh? Eh, no, eh, questo uno lì, no? Comunque io stavo pensando, non so se... Sì, io non penso mai niente perché dopo se penso troppo mi viene male la testa, allora è meglio di... Non penso niente. È meglio che pensa Maurizio. Sì, ho capito, però nella chat non mi ha scritto quei camionisti... Eh, non lo so, eh? Queste donne camioniste se vogliono fare qualche intervista. Un po', eh, ci sono tanti camionisti, ma le donne ce ne sono pochissime, così niente. E vabbè, però nessuno al ristorante oggi è nada de nada, interviste... Eh, che volevo farli innamorare, visto che oggi è San Faustino, eh? San Faustino. È possibile che siano tutti sposati? Sì, oggi è la festa dei singoli, eh? Sì, è dei singoli. Eh, è patronato, sei patronato. Il patron... Lei mi fa scoffondere. Anche la Jacqueline, dice, il patrono, dice la Jacqueline, il patronato. Cosa c'è il patronato, poi? L'Orison è difficile, eh? È molto difficile, specialmente quando la radio non funziona. Eh, no, no, ma ora va tutto alla perfezione, scherzi. Abbiamo tutti gli studi efficienti. Ecco. Ma forse a cinque minuti non si sa. Facciamo quattro minuti e mezzo? Sì. Va bene. Allora vada pure a dormire, lei ancora, eh? Eh, beh, qualche notizia e qualche aggiornamento, niente. Ma guardi, ricordo che Nicolò, allo Spallanzani, ovviamente, qualcuno dice che è tornato in Italia ed è felice, appunto, di essere ritornato in questo stivale, eh? Questa è la notizia più più, ecco, diciamo. Ho avuto un complimento da una signora che fa il tuo profilo, mi fa ridere, perché fa, mi ha fatto dei complimenti perché metto sempre su delle cose vecchie. Lo sai, il mio profilo è composto da cose antiche, no? Dall'Ottocento, ancora ai tempi della guerra. Ma il tuo profilo fa, mi piace, perché metti sempre su delle belle cose, ancora di una volta. Eh, mi piacciono le cose vecchie, no? Allora... Bene, comunque, Nicolò, eh, che è atterrato esattamente a pratica, eh, di mare, questo aereo, è atterrato, e c'era proprio Nicolò, a 17 anni, eh, questo Nicolò, e cosa succede? Ecco, diciamo che il ragazzo è stato bloccato due volte a Wuhan, eh, dove il coronavirus ha avuto maggiore diffusione, ed è atterrato, appunto, ripeto, a pratica di mare, a bordo di un aereo dell'aeronautica militare, in ottime condizioni. Ecco, quello che ci sono espressi, almeno i medici, dicono in ottime condizioni. Presente, eh, dicono che presenta una frogo, una febbricola, una febbricola, cioè siamo molto romagnoli qua, una febbricola, ma sarà una febbricola? Una febbre, un po' di febbre, ecco. Ah, sì, la febbre del sabato sera. Ecco, sì, molto still alive, dei Bee Gees, eh. Sì, la febbre del sabato sera. E non manifesta, ripeto, e non manifesta altra sintomatologia. Altri sintomi. Ecco, appare sereno e di ottimo amore, e continua ovviamente a rimanere in osservazione. Mi ha fatto anche la rima, eh. Appare sereno, eh, Nicolò, di 17 anni, di ottimo umore, e continua a rimanere in osservazione. Ma Loris continua a parlare sotto di me. Già che faccio fatica con questo dente, ecco. Però il dente è molto migliorato, ecco. Non si sa fino a quando, ma per ora. Beh, io avevo un dolorino anche al dente, ma è sparito. Va bene. Va bene. Dopo avevo anche un dolorino al piede e è sparito anche quello. È magia. Eh, sì, lo so, lo so, è magia. E invece ora noi dobbiamo salutarci perché il nostro ufficio termina qui. Sì, il nostro ufficio termina qui. Eh, sì. C'è la festa di single, sabato 15 febbraio 2020. Salutiamo tutti. Eh, in regia chi c'è in questo momento? In regia non c'è nessuno. Eh, come al solito, benissimo. Ecco. Oggi li ho lasciati in libertà, così vanno a festeggiare. Sì, sì, festeggiamo. Eh, dai, ci stava là. Ecco. Domani magari li avrò tutti. Domani, domenica, figuriamoci. Ma questa sera vai a mangiare una pizza? Allora questa sera cosa fai? Questa sera pensavo di fare un'insalata con mozzarella di bufala. Una bontà? Non ti piace? Io quando sono andato a Napoli per le feste del Natale ho mangiato lì le mozzarella e lì sono buone. Sono buone però. Buone, buone. Con due tipi di insalata doppia. Tonno doppio. Olive. Olive. Cipolla. E poi, poi, poi... Stop, direi. Sì, non ho messo altro. Ecco. E poi ovviamente ci facciamo una margherita. Ah, sì, sono leggero, insomma. Ecco. Ebbene, insomma. Ecco. Però, visto che lei ha mangiato le mozzarella, io più che mangiare la mozzarella di bufala, mi faccio un po' di formaggio, invece. Formaggio montanaro, eh? Sì, è buono quello. Ecco. Sì. Non hai mica preso lì... Eh, la cacciata lì e... Quelli che fanno i peccorai lì, le cacciotte. Ah, beh, sì. Ne hai preso una, sono buone. Sono favolose, fantastiche. Eh. Ecco, è arrivato anche un messaggio vocale, bene. Ah, messaggio vocale. Ecco. Ah, dicono che devo chiudere. Ah, sì. Va bene, il tempo è scaduto. Va bene, salutiamo tutti. Au revoir e abbiato. Eh, va bene. È stato un piacere. E non so, ci sentiamo se... Se quando lo studio funziona ancora, forse. Eh, sì, eh. Perché, insomma, adesso questa notte non si dormirà perché dobbiamo pulire tutto, eh. Dobbiamo abbellire il nuovo studio. E poi anche la sala d'aspetto. Dobbiamo fare tutti i lavori. Questa notte devi pulire tutto. Devi lavorare questa notte. Eh, sì, eh. Eh, sì, eh. Perché da lunedì, eh, non si scherza, eh. Qui lo studio zero va a sprombattuto, eh, lo studio zero di Ferrara, eh. Eh, alla notte si riposa, alla notte. No, no, no. Dallo studio zero non riposa mai. Di letteralmente radio, una radio con tante radio dentro. Vuoi salutare che siamo in ritardo? Eh, sì, allora io saluto tutti i miei fans che ho su Facebook, nel mio profilo. E dopo cosa facciamo? Ah, facciamo briscole 3-7, vero? Ecco. Sì, facciamo una briscolina a carte dopo. Sì, intanto vai a vedere i siti, eh. Oggi pomeriggio, eh. Eh, non ti ho detto nulla. Vado a controllare. Eh, forse è meglio. Vabbè. Siamo per San Faustino. Siamo tutti buoni, buoni. Ecco, da domani poi iniziamo a diventare magari più severi, eh. Con delle regole più, eh, ferre, eh. Va bene. Bye bye. Ed era il grande Loristella. Sempre, sempre con noi, eh. Bene, questo mi fa piacere. Io invece vi saluto. Vi ringrazio per essere rimasti con noi. All'ascolto e buon proseguo. Ovviamente la linea ritorna alla rete mondiale. Ciao a tutti da Maurizio DJ. State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network Chiocciola www.letteralmente.info Grazie a tutti.